Ciao a tutti ragazzi, il video è velocissimo per annunciarvi che questa sera dalle 21 in poi più o meno sarò in live insieme a Mick sul suo canale MonkeyDMick, link in descrizione e niente, risponderemo alle vostre domande e chiacchiereremo di videogiochi e anche altro volendo vi aspettiamo stasera ore 21, mi raccomando non mancate, ciao ciao!